Tutela del consumatore, codice di consumo e mercato europeo. Sono questi i temi del corso di perfezionamento organizzato dallo IUC, International University College of Turing, e dalla ECU, European Consumer Union. L'evento, che ha messo a confronto le esperienze di Italia e Spagna, ha previsto anche un'occasione di offerta formativa con accreditamento presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino.